questa squadra è la Faema e a Nova era un campione del mondo che è D-Max che vediamo proprio in questo momento ma adesso la nostra telecamera va a indugiare su questo ciclista Reggiano e lo chiediamo a Lauro Grazioli di chi si tratta? di Lauro Grazioli Lauro che anno era questa squadra qua? era il 1968 dove io l'anno primo correvo con lo Salamini il 67-66 con Adorni e in questa squadra eravamo 25 corridori tra i quali metà italiani e metà belgi e c'era se non sbaglio anche Adorni Vittorio Adorni che poi quell'anno lì nel settembre Imola vinse il mondiale e indossò lui la maglia di campione del mondo l'anno dopo che poi è passato con la SIC di Parma che meraviglia vedere anche il fatto che un esponente di Reggio abbia corsa di tour con un campione del mondo e con Vittorio Adorni quindi stiamo parlando di due esponenti Eddie Max e Vittorio Adorni esponenti importanti del mondo del ciclismo qui invece abbiamo Lauro Grazioli con la Salamini era l'anno 1966 giro di Lombardia il primo anno che ero professionista e sono arrivati sette corridori davanti tra i quali vinse quell'anno lì Gimondi, secondo Merck, terzo, anche il quarto Pulidor, quinto Zilliori sesto Adorni, settimo Dancelli io sono arrivato con altri dieci corridori dietro con Jansen, Van Springel e sono arrivato ultimo della volata perché sono arrivato veramente con l'ubicino che non ne avevo più sono arrivato diciassettesimo beh diciassettesimo un giro di Lombardia non è un brutto risultato però un diciassette porta sportivo beh in questo caso però noi lo facciamo tramutare in un numero positivo altra foto qui al centro Premi Lauro Grazioli ne abbiamo veramente tantissime questa foto qui Lauro intanto il mezzo di che anno è questa foto? 1958, primo anno da esordiente eravamo appena arrivati dal campionato italiano di Livorno dove il quale lì giocanassi quello centrale ha vinto il titolo italiano io avevo la maglia di campione provinciale e sono arrivato quinto e l'altro Ermanno Casini quello che ha il ristorante su Aviano e in mezzo c'è Lino Gana storico direttore sportivo a quei tempi con biciclette e marastoni che è tutto bene di reggio possiamo dire perché c'era tanta reggianità proprio anche in questa foto Lauro un passaggio su una maglia che ti chiedo proprio di raccontare insieme a noi la maglia della Mignini Ponte che quadra era? questa qua era di Perugia che ho corso lì quell'anno nel 65 maglia di lana classica che ho avevo regalato a uno sportivo che poi me l'ha ridato indietro meno male e quell'anno lì ho partecipato al piccolo tour al tour dell'avvenire come azzurro capitano Remichelotto l'anno prima invece nel 64 ero sul stato riserva dove Gimondi ha vinto il tour dell'avvenire diciamo quell'anno lì Lauro voglio chiudere con questa meraviglia e con il pezzo da 90 eccola qua questa è una bicicletta ti chiedo di raccontare la storia di questa meravigliosa bicicletta nel 1968 mentre correvo con la faima ho avuto l'idea di aprire un negozio di articoli sportivi mentre correvo e quell'anno lì l'inaugurazione è venuto ad Orni Baldini con le mogli e io ho smesso di correre perché ho guadagnato più quell'anno lì con il negozio che correre in bicicletta hai fatto un piccolo ragionamento a riguardo guardiamo intanto che meraviglia il verde è un colore era ho copiato un po' il verde della Marastoni assomigliava molto il verde della Marastoni perché allora era di moda questo colore io mi ricordo anche il fatto che le biciclette della Marastoni per esempio erano vendute anche in Giappone quindi c'era un suo fans club era molto gettonate ed è bello anche proprio per un colore storico Lauro il 18 maggio arriva il ciclismo e il giro d'Italia a Reggio Emilia secondo te che evento è e quanto sia importante secondo te partecipare è un evento molto importante anche perché noi abbiamo una zona molto ciclistica diciamo collinare che è molto invidiata da tutti i ciclisti che abitano giù nella bassa tipo Carpi Guastalla che vengono qui in macchina poi fanno le sgaloppate in salita perché noi veramente i ciclisti lo sentiamo molto diciamo ecco ed è una bella cosa che ogni tanto rinnoviamo queste tappe che sono molto importanti per lo svolgimento anche del ciclismo invito ai reggiani a partecipare a questa manifestazione perché sono cose che rimangono rimangono nel cuore e nella mente a partecipare a partecipare